Sei tu che mi hai insegnato a sospettare di tutto. Dov'è il certificato di nascita della nonna? Dovrebbe essere qui. Quindi è vero? Se è vero o falso non lo so. Perché dobbiamo ricordare le sofferenze? Perché è la verità, ecco perché te lo racconto. È la tua verità, mamma. Cosa posso dire? Forse io sono un miracolo. Non voglio essere una sopravvissuta. Voglio vivere. Lena, ora ascolta. A noi è andata bene.